tunica di volontario garibaldino inventario 682 collocazione storica utilizzata nella campagna del 1867 descrizione del reperto e materiali impiegati il tessuto è ancora la lana ma non rifiniture non sono accurate impiego e specificità dell'oggetto l'uniforme è priva di spalline con una sola fila di bottoncini in legno e quindi naturalmente senza doppio petto non viene anche fodera e il panno in generale è di più scarsa qualità la giacca non dà l'idea di un uniforme ma piuttosto di un abito di tutti i giorni al posto del paramano troviamo un normale polsino del tipo che può comparire nelle camice dello stesso colore del resto della giacca e con un bottone per fermarlo e sul petto a sinistra c'è addirittura un taschino la giubba è naturalmente rossa profilata di verde da tenere in considerazione che la campagna garibaldina del 1867 fu organizzata con grande povertà di mezzi senza l'appoggio del governo tutto perciò doveva essere fatto nella più stretta economia grazie a tutti